Carissime amiche, carissimi amici di Rossini TV, benvenuti in quella che è l'ultima puntata di Check Up Obiettivo Salute stagione 2022-2023. Una lunga serie di appuntamenti, ne abbiamo avuti tanti, poi li ricorderemo anche nei saluti finali, adesso ci preme presentare l'ultimo ospite di questa carrellata. Si chiama Giovanni Stanzani, è un dottore in scienze motorie, kinesiologo, un vero e proprio esperto dell'attività fisica, ci farà comprendere una volta di più quanto sia importante per noi il movimento. Ed eccoci qua nello studio con Giovanni Stanzani che è un kinesiologo. Buonasera a tutte. Kinesiologo è uno specialista, uno specialista di diverse cose, fra cui soprattutto quella che è riferita all'attività fisica. L'attività fisica che ognuno di noi dovrebbe fare, ma anche se appare così scontato che sia necessario farla, in realtà Giovanni non si fa come si dovrebbe. Ahimè no, ma c'è una scusante, c'è un problema di fondo che effettivamente chiunque sa che l'attività fisica è importante. Tutte le persone hanno sentito dire, o dal proprio dottore, dal proprio cardiologo, alla televisione, sui social network, che l'attività fisica è salute, l'attività fisica è importante e quindi possiamo chiedere a chiunque, chiunque ci dirà certo che è importante l'attività fisica. Però il modo in cui spesso viene trattato questo argomento, in modo vago, non aiuta a far sì che questo messaggio passi in modo chiaro e categorico. E proprio per questo motivo spesso questa idea che l'attività fisica faccia bene viene inteso più come fosse una cosa utile, come una cosa da fare nel tempo libero dopo che ho svolto tutte le mie attività nella giornata, come un qualcosa che sì, se lo aggiungo mi fa stare meglio, un qualcosa in più. In realtà l'attività fisica non è un qualcosa in più, l'attività fisica è essenziale, è alla base del nostro stato di salute. Senza attività fisica non c'è la vera salute. E quindi dobbiamo essere molto bravi e molto chiari nel far passare questo messaggio. L'attività fisica è quella componente essenziale che in un modo o nell'altro dobbiamo fare entrare a tutti gli offerti all'interno della nostra quotidianità. Quindi Giovanni, in realtà anche se l'abbiamo per scontata, in realtà l'attività fisica non è scontata. dobbiamo fare uno sforzo per ricamare il tempo nella nostra quotidianità da dedicare a noi stessi al muoversi, anche perché tutto questo poi porta ad evidenti benefici. Esattamente, evidenti benefici e anche qui dobbiamo essere molto chiari nel specificare cosa sono questi benefici, perché non sono benefici generici, come posso dire sto meglio, sì ma cosa comportano? E quindi rendiamoli ben chiari, parliamo di ridurre il rischio delle principali patologie che attualmente comportano una riduzione dell'aspettativa di vita e quindi la riduzione del rischio delle malattie cardiocircolatorie, come ipertensione, ictus, cardiopatie, ridurre il rischio di patologie metaboliche, come la sindrome metabolica, il diabete di tipo 2 e l'obesità, problematiche oncologiche, come il cancro al seno e il cancro al colon. Per non parlare di tutta un'altra lunga serie di problematiche come l'osteoporosi, la depressione, il decadimento delle capacità cognitive, il rischio di caduta e davvero viene definito il farmaco ad ampio spettro più potente che abbiamo a disposizione. La cosa bella è che è gratuito. E noi siamo perfettamente d'accordo con te. Pensiamo a quella sensazione di benessere che proviamo tutti noi dopo aver fatto qualcosa che comunque ci mette in movimento, ci mette davvero in moto, magari ci fa stancare e magari alla fine dello sforzo ci fa dire che bello ce l'ho fatta. Però ovviamente Giovanni le età sono diverse. Quando si parla di attività fisica bisogna anche essere molto precisi nell'indicare a seconda dell'età qual è quella data. Esattamente. Infatti un altro delle problematiche relativa al far passare il messaggio che l'attività fisica è importante è quello di chiarire che l'attività fisica non è una cosa generica. Ci sono diversi tipi di attività fisica ed è importante capire in base a quella che è la persona e quelle che sono le caratteristiche, le richieste di cui può avere bisogno una persona, qual è l'attività fisica o quali sono le attività fisiche più indicate per far sì che all'interno della propria settimana si possa far sì che vengano dati tutti gli stimoli corretti per migliorare quelle che sono le proprie capacità e prevenire quelle che sono le problematiche appunto correlate a quella che è l'età e il proprio rischio. Infatti probabilmente la cosa principale è prendere in considerazione il discrimine dell'età cioè le fasce d'età e individuare dentro queste fasce d'età cosa va meglio e cosa magari va meno bene. Esattamente quindi ovviamente possiamo anche tener conto di delle linee guida che comunque ci possono aiutare. Ad esempio se parliamo di bambini sarà molto importante far sì che nelle fasi evolutive si faccia più sport possibile di più vario tipo perché dobbiamo tener conto della necessità di sviluppare gli schemi motori principali, far sì che si dia il giusto stimolo al corpo per una corretta crescita, per far sì che i bambini possono socializzare e comunque migliorare quelle che sono anche le capacità di relazione tra di loro. Se parliamo di un'età adulta e anziana ovviamente dovremmo andare incontro ad altre necessità come può essere quella di ridurre il rischio di caduta che a tutti gli effetti è un'importante causa di invalidità se non di morte e quindi è molto importante far sì che si dia il corretto stimolo e il giusto valore e attività che portino il corpo a rinforzarsi e migliorare la forza e l'equilibrio proprio per prevenire questo rischio. Se invece parliamo di età adulta generale possiamo tenere conto di quelle che sono le linee guida dell'Organizzazione Mondiale della Sanità che ci dicono che dalle 3 alle 5 volte a settimana dovremmo eseguire almeno mezz'ora di attività aerobica come può essere la camminata veloce, la corsa, il nuoto o la bici, attività ricreative e sportive come possono essere il calcetto o la pallavolo, quelli che sono gli sport che ci piacciono e anche aggiungere però almeno 2 o 3 volte a settimana delle attività che comportino dei miglioramenti e dei benefici a livello di forza e a livello di elasticità e mobilità del nostro corpo come possono essere le attività di pesistica, le attività di allungamento e controllo come può essere lo yoga o il pilates e per concludere però il consiglio è quello di tutti i giorni provare a tenere uno stile di vita che sia il più attivo possibile dal semplice camminare per andare dal panettiere andare a fare una passeggiata portando a spasso il cane, preferire la bici allo scooter, preferire le scale l'ascensore, tutto ciò che ci permette di mantenerci più in movimento possibile Giovanni sei stato chiarissimo e hai dimostrato cosa significa essere professionisti professionisti nel tuo settore proprio del benessere, dell'apporto, del miglioramento della nostra vita attraverso l'attività fisica. Noi siamo in un centro che ormai è un centro polivalente, fisioradi tanti fisioterapisti, tanti medici che vi afferiscono, tanti professionisti come te che peraltro hanno anche uno spazio a disposizione per fare questo tipo di attività e per aiutare le persone che vogliono comunque tenersi in esercizio perché qui c'è uno spazio attrezzato, una palestra nella quale tu lavori con tante persone Esattamente, il nostro consiglio è sempre quello di rivolgersi a un esperto come ciascuno al proprio commercialista ciascuno al proprio avvocato proprio per l'attività fisica che deve essere il più specifica possibile il mio consiglio è quello di rivolgersi a un professionista del movimento che possa creare per voi quella che è l'abito perfetto, ovvero l'attività fisica perfetta per quelle che sono le vostre necessità le vostre problematiche e le vostre richieste E noi carissimi amiche e carissimi amici di Rossini TV non potevamo avere una chiusura più perfetta di questa del nostro ciclo di trasmissione 2022-2023 con Giovanni Stanzani che ringraziamo Grazie mille, buona serata Grazie davvero Giovanni Ed eccoci qua amiche e amici, vedete ho in mano un microfono molto particolare, in realtà è un piccolo peso, siamo nella palestra dello spazio di Physio Radio Medical Center sono i saluti finali di questo lungo ciclo di trasmissioni che ci ha tenuto compagnia davvero per tutto l'inverno e anche la primavera a cavallo fra il 2022 e il 2023 30 puntate interessantissime, abbiamo intervistato tanti medici, gli argomenti sono stati molteplici siamo riusciti ad entrare nel merito di ognuno dando spiegazioni, dando consigli utili, dando tantissime cose che sicuramente molti di voi avranno potuto poi verificare sulla propria pelle quanto sono utili Il ringraziamento davvero a Physio Radio Medical Center con il suo titolare Maurizio Radi che ha fortemente voluto queste trasmissioni e crede tantissimo in questo tipo di comunicazione utilissima alle persone, un grande ringraziamento anche a Laura Mancini che è l'addetta al marketing di Physio Radi che ci ha aiutato a organizzare tutto questo lungo ciclo di interviste ovviamente sul finale ringraziamo anche Francesco Mazzetti per la sua grande competenza tecnica e la sua pazienza nell'averci accompagnato tutte le volte nelle registrazioni vi rimandiamo alla prossima stagione di CheckUp Obiettivo Salute e buona serata a tutti Grazie a tutti